Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video delle Time to Decals. Come potete vedere oggi andremo a fare il casco di Jeanne Alesi. Allora, sarete sicuramente, insomma, vi sarete accorti che il casco è già completo, questo è già fatto, perché io ho registrato la parte dell'applicazione delle decals in un momento prima e adesso vi faccio vedere come ho fatto. Come sempre ho utilizzato il Decal Softener, che vi lascio sotto in descrizione, vi accorgerete che lo uso, è l'ammorbidente per le decals, ok? Che vi serve soprattutto per questi caschi che hanno questi adesivi molto grandi, molto tondeggianti, senza di lui è veramente difficile applicare queste decals. Vi ricordo, sotto in descrizione trovate il link. Peraltro alcuni di voi mi hanno comunicato che Amazon l'ha un po' sostituito, ce n'è uno a base alcolica, io invece l'avevo messo uno non a base alcolica. Comunque, ragazzi, è uguale, l'importante è che sia un Decal Softener, poi basta che ammorbidite perché altrimenti, come vi dicevo, non ci riuscite. Ragazzi, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicino in su e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist delle Time to Decal's, dove potete trovare tutti i video che abbiamo fatto fino ad ora. Allora, come vi accorgerete in questo video, ragazzi, è tutto velocizzato, non ho parlato perché prima cosa mi sono reso conto di fare davvero molta difficoltà a parlare mentre attacco le Decal's, quindi ho deciso di fare tutto quanto senza audio. Se avete qualche dubbio o magari non capite bene come faccio qualcosa, vi invito, nella playlist che vi ho lasciato, andare a guardare i primi video perché lì vi spiego tutto quanto proprio a voce, quindi insomma, se avete qualche dubbio potete recuperare. Va bene? Ragazzi, spostiamoci sotto e vi faccio vedere come ho applicato le Decal's sul casco di Cianalesi. Grazie a tutti. 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 Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se vi è stato utile questo tutorial, sempre un commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con il prossimo numero che sarà quello di Nigel Mansell, anzi, Nigel Mansell diciamolo bene. attaccheremo le Decal's proprio su quello del Leone di Inghilterra. Io vi do appuntamento dunque per il prossimo video e vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.